È un progetto a cui teniamo molto, intanto perché Pesaro ha una storia particolare, quasi unica, di ricchezza, di contributi di artisti contemporanei in giro per la città. Sono sculture che hanno una storia lunga, anche una lunga storia legata a quello che è stato l'anno prossimo. Saranno i 50 anni di sculture in piazza, che è la mostra epocale, con le sculture di pomodoro in piazza del popolo, che poi diede il via a una stagione, non solo al fatto che ora una scultura come la Sfera Grande in piazza della Libertà è rimasta come testimonianza di quell'epoca, ma poi ha spinto tantissimi altri artisti a contribuire con le proprie opere o l'amministrazione a collocare opere di grandi artisti, tant'è che oggi sono censite almeno 20 grandi interventi da Staccioli, quel grande abbraccio che vediamo all'arrivo all'autostrada, che in realtà era una sorta di ponte quando venne collocato la prima volta al centro d'artivisi e pescheria. Non è un caso quindi che questo progetto veda tra i protagonisti non solo il comune di Pesaro, ma la pescheria come luogo dell'arte contemporanea e anche dell'archivio Loriano Sguanci, perché Loriano Sguanci è stato il primo, oltre che ideatore, direttore del centro d'artivisi e pescheria ed è anche uno dei protagonisti, pensiamo alla porta al mare di Viale Marconi o anche l'intervento con cui ha riqualificato Piazzale 1 maggio tanti anni fa, uno dei tanti protagonisti appunto di questo parco delle sculture che passa per la scultura di Consagra in Piazzale Matteotti o pensiamo al porto, il grandissimo lavoro di Leseo Mattiacci, questo ordine cosmico che insomma è nel cuore di tutti quelli che vanno a fare la passeggiata. Ecco, l'arte contemporanea naturalmente esige sempre un po' di mediazione, anche per essere compresa, per essere raccontata e quindi essere inserite queste sculture all'interno di un parco urbano visitabile e raccontabile con percorsi, app, anche tutte le possibilità che le tecnologie forniscono ma anche la possibilità di avere dei podcast ascoltabili o più semplicemente anche fare visite guidate, percorsi guidati con le guide turistiche o chi organizza Wallscape per valorizzare le bellezze dell'aria aperta, pensiamo che sia un bellissimo elemento di racconto in sé per l'unicità che rappresenta Pesaro ma anche perché appunto può essere dalle scolaresche e tanti altri fino all'ambito turistico un elemento di forte interesse e anche una linea per proseguire in questa direzione quindi con la qualità molto alta che Pesaro ha da questo punto di vista, ripeto che ne fa quasi un unicum mondiale, continuare e chiaramente con l'attenzione, anche qui la presenza degli architetti e dei passeggisti sarà preziosa oltre che della sovrintendenza in interventi urbani che portano della bellezza anche fuori dai musei e quindi la rendano più fruibile, più accessibile a tutti e anche diciamo magari poi invogliare per temi in particolar modo ad avvicinarsi al contemporaneo e quindi poi a visitare i musei, in particolar modo alla pescheria.